Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi ho deciso di consigliarvi 5 libri perfetti per la stagione autunnale. I libri che vi suggeriscono devono avere principalmente una caratteristica, ovvero devono essere delle coccole, perché è un po' così che io mi immagino il periodo autunnale, se lo voglio proprio romanticizzare al massimo. Quindi cominciamo a tirare fuori la copertina, il plaid per il divano, cominciamo a indossare qualcosa di più pesante, i maglioni comodi, rientriamo in casa dopo un periodo estivo passato all'aperto, cominciamo ad accendere i riscaldamenti, il caminetto, quindi c'è bisogno di qualcosa che ci faccia sentire al sicuro, al caldo e protetti. Insomma, e quindi ho deciso di suggerirvi quelli che secondo me sono 5 titoli perfetti da leggere in questa stagione e che spero piaceranno anche a voi. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo titolo che vi suggerisco è praticamente un must del mese di settembre e sto parlando di Harry Potter, chiaramente, quindi non potevo non inserire questo libro nella lista di libri da leggere in autunno. Questo perché ormai sappiamo tutti che è il primo settembre, il giorno in cui arriva la lettera da Hogwarts. Non so se voi l'avete ricevuto oppure no, insomma, fatto sta che è a settembre che inizia l'avventura e quindi io direi che questo è il momento perfetto per leggere questo libro, ma sono sicura che tutti voi l'avete già fatto, quindi direi che è il momento giusto per rileggere questo capolavoro. Vi ho mostrato il primo, La Pietra Filosofale, però, insomma, qualsiasi sia il vostro Harry Potter preferito, il momento giusto per leggerlo è sicuramente l'autunno. Il secondo titolo che vi suggerisco è l'opera di quella che è probabilmente la mia autrice preferita, Valérie Perrin, che è l'autrice di Cambiare l'acqua ai fiori, che probabilmente è il titolo che conoscete di più, ma in realtà io oggi ve ne suggerisco un altro, Il quaderno dell'amore perduto. Un libro meraviglioso, credo il suo primo libro, che mi ha veramente scaldato il cuore, ed è per questo che ve lo suggerisco nella stagione autunnale. La storia parla di una ragazza che lavora in una casa di riposo. Si dice spesso che il periodo della vecchiaia è un po' l'autunno della nostra vita, e quindi credo che sia molto bello leggere questo libro proprio in questo periodo, perché appunto lei lavora con le persone anziane. Una di queste ha una storia molto particolare, la storia di un amore travolgente che appunto ha vissuto durante la sua giovinezza, e questa signora decide di raccontare questa storia proprio alla nostra protagonista, la quale prenderà un quaderno e si appunterà a tutto quello che la signora le racconta. Quindi è un viaggio nel tempo, perché vediamo sia la storia della protagonista, che quella che le racconta la signora della casa di riposo. Un libro scritto divinamente bene, con quelle frasi che veramente sanno segnarci, di quelle che andrebbero ricopiate su qualche quaderno e rilette ogni tanto, perché la scrittura di Valérie Perrenne è davvero incantevole e coinvolgente. Cambiamo genere per il terzo titolo, perché ho deciso di inserire anche un thriller per gli amanti del genere, perché anche se ho detto che durante l'autunno è bello leggere dei libri che siano delle coccole, e secondo me anche un buon thriller può essere una coccola. Sto parlando della moglie imperfetta di B.A. Paris, ma in realtà qualsiasi titolo di questa autrice va bene, perché ho visto che più o meno lo stile è sempre lo stesso. Questo thriller, a differenza di altri che ho deciso di scartare per i suggerimenti autunnali, non è uno di quelli con un milione di personaggi o con una trama troppo intricata, perché appunto volevo riprendere il filone delle letture sotto le coperte o della lettura davanti al caminetto sul divano, qualcosa che ci coinvolga ma che non richieda troppo sforzo mentale, diciamo. E questo secondo me è il thriller perfetto, perché per l'appunto è molto lineare ma allo stesso tempo sorprendente. Uno di quelli che nonostante non sia particolarmente intricato, sicuramente ci saprà sorprendere alla fine, ma soprattutto ci fa divorare le pagine. Questa è un'attrice che davvero vi ritroverete a leggere praticamente ogni giorno, perché non vedete l'ora di sapere come va a finire. Questa è la storia di una donna che in una giornata di pioggia, per l'appunto, torna a casa e vede sul ciglio della strada una donna in un'auto. Non si ferma ad aiutarla a causa del maltempo e il giorno dopo scopre che questa donna è stata assassinata. Quindi comincia a chiedersi se lei avrebbe potuto fare qualcosa per questa donna, se si fosse fermata, ma soprattutto cominciano ad accaderle delle cose molto strane. Riceve delle telefonate anonime, ma soprattutto inizia a rendersi conto che non sa più fare le cose elementari, come azionare la lavatrice, o non ricorda gli appuntamenti presi, quindi comincia anche a preoccuparsi per la sua salute. Insomma, in realtà è tutto un grande mistero che va risolto e lo risolverete pagina dopo pagina, magari accompagnando la lettura con una buona tazza di tè. Quarto libro che vi suggerisco, ormai se mi conoscete sapete che in autunno questa autrice non può mancare. Sto parlando di Chocolat di Joan Harris. Questa autrice ha scritto tanti libri, comunque Chocolat è probabilmente quello che l'ha resa realmente famosa. Io credevo fosse una trilogia, in realtà credo sia una tetralogia. Quindi esistono quattro libri che parlano della storia di Joan Rocher, di sua figlia e così via, però io vi suggerisco il primo perché se non l'avete letto, ma anche se avete visto il film, è una lettura che merita davvero. Ho visto che la luce si riflette sulla copertina, Comunque mi è venuto in mente questo libro perché inizia proprio con una scena in cui madre e figlia arrivano nel paesino che si chiamava Lanskinesjutan, mi pare. Arrivano in questo paesino in una giornata molto ventosa, quindi non so, questo mi ha ricordato proprio l'autunno, anche se in realtà credo che nel libro fosse inverno. E arrivano in questo paesino che poi ospiterà tutta l'avventura del libro. Ma soprattutto, ormai lo sapete anche dal titolo, la protagonista apre una cioccolateria. Quindi vi immergerete in questi odori, in questi sapori, in un locale caldo e accogliente che offre cioccolata calda speziata. Quindi insomma vi ritroverete davvero ad annusare il libro e sentirete l'odore della cioccolata. È veramente una coccola. Le descrizioni dell'autrice del cibo che viene preparato e cucinato secondo me sono qualcosa di unico, non ho mai letto niente del genere, quindi direi che una buona cioccolata calda durante il periodo autunnale ci sta, ci sta davvero. Infine, l'ultimo libro che vi suggerisco per l'autunno è Finché il caffè è caldo di Toshikatsu Kawaguchi. Ok, spero di averlo pronunciato bene. Il libro è piuttosto breve ma davvero, davvero carino. È la storia di un bar, di un locale molto particolare. C'è un tavolo che ha un potere, potremmo definirlo così, ovvero quello di poter tornare indietro nel tempo, in un momento preciso che decidiamo noi, del nostro passato, all'interno di quello stesso locale per poter rivivere una determinata esperienza, in un determinato momento, senza che però qualsiasi cosa noi facciamo in quel momento possa in alcun modo modificare il futuro. Questa secondo me è la genialata di questo libro, che è stato per me davvero una coccola, perché sembra quasi di leggere una raccolta di racconti, perché è la storia di 4-5 personaggi che decidono di fare questo viaggio nel tempo. E soprattutto il titolo mi dava molto la sensazione dell'autunno, perché insomma il caffè è caldo, le bevande calde cominciano a tornare proprio in questo periodo, mentre fino adesso abbiamo voluto bere soltanto qualcosa di fresco e con ghiaccio. Quindi anche questo è un titolo che ha fatto molto chiacchierare, quindi se non l'avete ancora letto vi lo suggerisco, perché per me è stata una dolce scoperta. Bene ragazzi, il video finisce qui, molto breve, però spero che anche questo video sia stato un po' una coccola per voi, perché appunto ho voluto suggerirvi qualcosa che secondo me vi saprà coinvolgere e vi saprà far passare tante ore gradevoli in compagnia dei personaggi dei libri che vi ho nominato. E niente, quindi io vi saluto, vi ringrazio come sempre per tutti i vostri dolcissimi commenti e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao! Ciao!